Principio d'incendio e tanta paura al conservatorio Pollini di Padova, due passi dall'Iston, evacuati 150 studenti e 20 tra docenti e impiegati. Il guasto è avvenuto in una cabina elettrica cosiddetta di media tensione, posizionata nel conservatorio, nei locali bassi della scuola di musica in via Carlo Cassan. Immediato l'arrivo di un mezzo dei vigili del fuoco, che constatavano come si trattasse per fortuna solo di fumo, causato dalla perdita di isolamento di alcuni cavi. I pompieri decidevano così di circoscrivere la zona interessata, mentre il personale presente nel conservatorio, scattato l'allarme antincendio, era già stato fatto evacuare. La produzione di fumo ha provocato comunque l'attivazione di diversi allarmi antincendio dei palazzi della zona, che sono stati tutti controllati dai vigili del fuoco per escludere qualsiasi altro problema. Alcuni locali del conservatorio interessati dal fumo sono stati subito areati con gli elettroventilatori e tornati utilizzabili dopo circa un'ora. Subito a lavori tecnici dell'energia elettrica per la riparazione del guasto e per ridare corrente alle utenze interessate dal blackout e lungo via Cassan. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora. Grazie. Grazie. Grazie.